Immagolata vergine della montagna, regina del cellule della terra, prostrato di tuoi piedi, ti supplico di avvolgere i tuoi occhi misericordiosi su di me, o per un peccatore. Immagolata vergine della montagna, regina del cellule, dove provare una ricca di direzione di corso, che ottenere la grazia di direzione di armi, da parte di attenzione, purificamente con la tua misericordia, o maggi di misericordia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.